Inboccavo la salita ripida e il traffico si fece denso, rallentammo fin quasi a fermarci dietro una piccola peggio oscura. Alice, implorai, l'orologio sul cuscotto sembrava accelerare. «È l'unico accesso alla città», disse come per tranquillizzarmi, ma la sua voce era troppo nervosa. La colonna procedeva a singhiozzo, pochi metri alla volta. Le auto strisciavano in fila verso la città. A mano a mano che ci avvicinavamo, le vedevo parcheggiare sul cilio della strada, abbandonate dai visitatori, che preferivano proseguire a piedi. Sulle prime pensai fosse soltanto impazienza, una sensazione che capivo benissimo. Ma a un certo punto incontramo un'interruzione e notai il parcheggio sotto il mura della città, affollato dai turisti che entravano a piedi. L'accesso alle auto era vietato. Alice, la incalzai. «Lo so», rispose. Il suo viso sembrava scolpito nel ghiaccio. Ora che guardavo fuori e che viaggiavamo lentamente, notai il forte vento. Mi accorsi anche che il colore rosso predominava. Magliette rosse, cappelli rossi, bandiere rosse frustrate dal vento come nastrini. «Bella», Alice parlò in fretta, a bassa voce, senza pentennare. «In questo momento non riesco a prevedere le decisioni delle guardie. Se non funziona, ti toccherà entrare da sola. Dovrai correre. Continua a chiedere la direzione per Palazzo dei Priori e corri verso il punto che ti indicano. Non perderti». «Palazzo dei Priori, Palazzo dei Priori», mi ripetei per fissarmelo nella mente. «Occhiedi della torre Campanaria. Io farò il giro attorno alla città, in cerca di un posto non troppo in vista dove scavalcare le mura. A noi, Palazzo dei Priori. Troverai Edward ai piedi della torre, sul lato settentrionale della piazza. Si è nascosto nell'ombra di un vicoletto all'angolo destro. Cerca di attirare la sua attenzione prima che si esponga alla luce. Alice era arrivata quasi in fondo alla coda. Un uomo in uniforme blu dirigeva il traffico e allontanava le auto dal parcheggio pieno. Infine, fu il turno di Alice. L'uomo in uniforme faceva cenni pigri senza badare troppo ai guidatori. Alice accelerò, passò oltre e puntò verso la porta delle mura. Il vigile urlò qualcosa. Ma arrestò dove era? Sbracciandosi frenetico per impedire che la macchina che ci seguiva imitasse il cattivo esempio. La porta era custodita da un altro uomo in uniforme. Ci avvicinavamo tra due ali di turisti che sbirciavano curiosi verso la Porsche appariscente e pacchiana. Il secondo vigile si piazzò in mezzo alla strada. Alice scartò per evitarlo e frenò di colpo. Allungò una mano dietro il sedile ed estrasse qualcosa dalla borsa. Il vigile si avvicinò all'auto irritato e picchiettò furioso sul finestrino. Alice lo abbassò per metà e non appena furono faccia a faccia, vidi l'uomo prepararsi a una sfuriata. Mi dispiace, ma oggi entrano soltanto gli autobus turistici, disse, in inglese con pesante accento italiano. Sembrava quasi volesse scusarsi per non poter dare notizie migliori a quella donna straordinariamente bella. È una visita privata, disse Alice sfoderando un sorriso malizioso. Allungò la mano fuori dal finestrino sotto il sole. Restai impiedrita finché non mi accorsi che indossavo un guanto scuro lungo fino al gomito. Strinse la mano al vigile, rimasta a mezz'aria dopo aver bussato sul finestrino, e la tirò verso di sé. Gli ficcò qualcosa nel palmo e strinse le dita. L'uomo ritirò il braccio, sbalordito di fronte alla ricca mazzetta appena ricevuta. L'unica banconota che riuscì a scorgere era da mille dollari. È uno scherzo, mormorò lui. Il sorriso di Alice fu accecante. Solo se lo trovi divertente. Lui restava a guardarla, sbalordito. Io lanciavo occhiate nervose all'orologio sul cruscotto. Se Edward intendeva rispettare i suoi piani, ci restavano solo cinque minuti. Sono un po' di fretta, abbozzò Alice sorridente. La guardia, confusa, finì per infilarsi i soldi in tasca. Fece un passo indietro e cedì a del via libera. Alice entrò in città ed entrambe sospiravano di sollievo. La strada era strittissima, lastricata di pietre e dello stesso coloro trascuro dei palazzi che la nascondevano nell'ombra. Sembrava un vicolo. Sulle mura, separate da una breccia di pochi metri, spiccavano tante bandiere rosse sbattute dal vento che soffiava per la via. La folla di pedoni ci rallentava la marcia. È poco più avanti, disse Alice per incoraggiarmi. Mi tenevo stretta alla maniglia della portiera, pronta a lanciarmi in strada non appena ricevuto il segnale. Mi indicò il punto in cui la strada si allargava e sfociava in uno spiazzo illuminato. Ecco il lato meridionale della piazza. Attraversala, vai dritta fino alla destra della torre campanaria. Io cerco un'altra strada. Si interruppe di colpo e riprese a parlare con un sibilo. Sono dappertutto. Restai in piedrita, ma lei mi spinse giù dall'alto. Non pensare a loro. Hai due minuti. Corri, bella, corri!